Un maxi sequestro da 6 milioni e mezzo di euro ed un appatteggiamento, mentre il resto del procedimento sarà trasferito ad Arezzo per competenza territoriale. Questo quanto stabilito dalla Tribunale di Bologna, dove nei mesi scorsi era approdata la vicenda del traffico illecito di oro con la Turchia. A finire nel mirino degli inquirenti, nell'ambito dell'inchiesta sul riciclaggio di denaro che vede coinvolte 29 persone di nazionalità italiana, cinese, turca e romena, era stata l'azienda Orafa Castoro di Castiglion Fibocchi. Nel dicembre 2018, a seguito del blitz della Guardia di Finanza, finirono in manette così quattro aretini, titolari della ditta, poi tutti scarcerati. Secondo gli inquirenti, sarebbero stati proprio loro a costituire l'anello strategico di un complesso meccanismo con il quale il denaro di dubbia provenienza veniva trasformato in metallo prezioso, anche quest'ultimo secondo l'accusa di provenienza illecita. Scambi di denaro e metallo organizzati da un cinquantenne turco. A patteggiare la pena a quattro anni, adesso Simone Jacopi, uno degli arrestati, che comunque dovrà pagare sul presunto contrabbando con la Turchia. È stata impugnata la sentenza di patteggiamento con ricorso per Cassazione, in particolare vi sono degli aspetti di natura fiscale sulla confisca che noi contestiamo e che dovranno essere vagliati dai giudici della Suprema Corte. Per gli altri imputati, invece, il procedimento giudiziario sarà spostato ad Arezzo, dove sarà il PM Roberto Rossi a sostenere l'accusa. Alla Castoro, infine, ormai dal 2018, si è insediato l'amministratore giudiziario nominato dal GIP, il commercialista Aretino Stefano Mendicino. Le aziende devono essere salvate, al di là di quelle che sono le colpe e le responsabilità dei titolari che possono aver sbagliato, ma vi è tutto un indotto collegato alle aziende che deve essere tutelata.